Dopo il ritiro l'anno scorso in questo periodo si parlava di Scudetto. Quali possono essere gli obiettivi minimi di questa stagione all'interno di questa nuova squadra? Il pensiero comune di tutti noi non è riferito a un obiettivo particolare, quindi Scudetto, Coppa Italia, Europa League, non credo sia il punto nostro di arrivo a cui dobbiamo pensare. Noi dobbiamo concentrarci sul fatto di tornare a essere Juventus sotto tutti i profili e arrivare a fine anno orgogliosi, noi giocatori, staff, società e tifosi, di quello che abbiamo fatto. Questo deve essere a mio avviso il punto focale della nostra stagione. In un'intervista sulla Gazzetta dello Sport Ferrara ha fatto due riferimenti. Il primo riguarda i compagni di Alessandro, definito Asini, in riferimento al fatto che hanno fatto meglio con Zaccheroni e non con Ferrara. Che cosa ne pensi di queste dichiarazioni, di questa intervista, soprattutto per quello che riguardava te? Sei un giocatore che vuole giocare sempre e può essere un problema. Io credo che l'intervista sia stata fatta in un momento emotivo particolare. Questo non è per giustificare le dichiarazioni di Ferrara, ma credo sia così. È stata dettata da troppa emotività. Essere squadra significa assumersi sempre le proprie responsabilità, mai scaricarle. Questo è sempre stato qui alla Juventus e lo vedo anche nelle altre squadre. Il motivo principale per cui si va avanti e si vince è perché si è tutti uniti. Perché quando c'è un problema lo si risolve tutti insieme, anche se riguarda più a uno che all'altro. Questo è un discorso molto preciso, molto semplice, ma fondamentale per la costruzione di una squadra, per la costruzione di un gruppo. Perché poi si parla sempre tanto di squadra, di gruppo. Queste sono cose, a mio avviso, fondamentali. Io con qualsiasi compagno o allenatore o altro con cui ho partecipato comunque conservo e voglio conservare solo i ricordi positivi. Ma non solo quello. Dico che, avendo fatto parte della mia vita, lo sono sempre, prima, durante e dopo. Non è mio interesse andare a discreditare uno dell'anno scorso, di cinque anni fa. Non credo, insomma, in questa filosofia, onestamente. Come non credo né io, né di essere un asino, né tantomeno i miei compagni. Quindi questa è un po' la mia risposta. Per quanto riguarda poi il discorso di giocare sempre, sì, l'ho letto, ma... Il problema vero è che se un giocatore non vuole giocare, a mio avviso. Quella è la cosa importante. Il giocatore deve fare di tutto sul campo, naturalmente, per impegnarsi e per proporsi all'allenatore nei migliori dei modi. Per quanto mi riguarda, non ho mai chiesto a nessun allenatore di giocare sempre. L'unica cosa che chiedo è di partire alla pari, di non avere nei miei confronti i pregiudizi, perché si parla tanto anche della mia età. Quella è la cosa fondamentale. Gli altri anni i dualismi venivano creati dalla stampa o dalla tv. Quest'anno, indirettamente o forse anche direttamente, il dualismo tra te e Diego l'ha creato del neri, dicendo che non potete giocare insieme. Penso che non ci sia niente di male dire che magari in questo momento il mister ci vede ricoprire più o meno lo stesso ruolo. Penso che nel corso della stagione, conoscendoci meglio, magari può capire cose in più, può vedere altre soluzioni. Né io né Diego stiamo vivendo un dualismo in questo momento, onestamente. Ci stiamo solamente impegnando per fare bene. Tu ti vedi come alternativa a Diego o potresti giocare assieme? Se vuoi farmi dire cose che non voglio dire, non so se riuscirò a contentarti oggi. Anche perché non è certo il momento giusto. Vedremo dalle partite che contano, poi in avanti, come proseguiranno le cose. Insomma, adesso mi avviso che presto sia un po' sbilanciato il mister in questa cosa. Non ti era mai successo di iniziare la stagione con un contratto in scadenza? Hai avuto delle offerte? Hai pensato di accettarle o meno? Per quanto riguarda il mio futuro è molto chiaro, semplice, limpido. Totalmente focalizzato, la mia mente, a questa stagione. Non c'è nessuna trattativa in ballo con altre squadre. In questo senso ho fatto pulizia perché la mia mente sia totalmente libera e dedicata a quest'anno calcistico che lo sento molto, molto importante per la Juventus e per me. Ti hanno dato più fastidio le parole di Ferraro che l'Inter abbia vinto tutto? Ma guarda, ho fatto delle vacanze meravigliose. Non mi hanno disturbato nessuna delle due cose più di tanto. Quindi c'era anche la nazionale di mezzo, quindi digerire il fatto di non essere andato giù. E pensavo a quella che era la stagione che è appena cominciata. Fra me e me dicevo, forse quest'anno deve essere una stagione diversa, deve essere una stagione dove non dà spazio a particolari situazioni emotive, più o meno fastidiose o altro e dove voglio possibilmente prima di tutto stupire me stesso. Non credi che possa essere questo il vero anno zero dopo Calcioppoli per la Juventus? Ripartire da zero veramente? Per me ogni anno è anno zero. Nel mio modo di pensare ogni anno è anno zero. perché quello che hai fatto l'anno scorso deve servirti solo per migliorare l'anno successivo. Quello che hai fatto due anni prima, tre anni prima è uguale. Non si gioca con la storia, non si gioca con altre cose, si gioca solo con il campo e il campo è quello che determina il bene o il male. Hai gufato la nazionale, essendo rimasto a casa? No, no, non l'ho gufata. L'ho gufata perché comunque mi sento, mi sentivo nazionale anch'io. La Radona ha detto che Totti e Del Piero sono mancati a questa nazionale, l'hai sentita? Mentre eri in vacanza. Sì, sì. Sebbene volessi essere distaccato dal mondo, comunque mi sono arrivate tutte le cose. Mi è arrivata anche questa. Chiaramente mi fa molto piacere. Tutti gli attestati di stima mi fanno molto piacere. Detti anche da un giocatore come lui, una persona come lui, che comunque dal punto di vista calcistico è indiscutibile. Tutte le cose che sono state scritte su di te in questi anni. Mi dici una cosa, o una bugia gigante, o proprio una cosa che la legge ti fa arrabbiare. Tu hai sempre detto che hai avuto voglia di allenarti, in ritiro, di giocare. Non ci pensi davvero che questo potrebbe essere il tuo ultimo anno, neanche per un secondo? Non sono una persona che si vuole soffermare più di tanto sugli aspetti negativi e non voglio leggere, controllare o stare dietro a tutte le situazioni magari poco piacevoli. So di essere una posizione dove puoi anche dividere critica, tifosi, quindi devi anche essere aperto ad accettare quelle che sono situazioni del genere. So di avere un ruolo di responsabilità molte volte maggiore rispetto ad altri, come giusto che sia per quello che ho costruito e che sono. So altrettanto con estrema sincerità, come ti ho risposto adesso, e limpidezza che ho un percorso storico molto importante. Ho un comportamento molto particolare di cui ne vado molto orgoglioso. Perché sottolineo questo? Perché poi quella che è la prestazione finale viene determinata dai gol, dagli assist, sia dalla tua presenza in campo, dal modo in cui ti alleni, dal modo in cui vivi all'interno dello spogliatoio e dal comportamento che tieni all'interno dello spogliatoio fuori. Cioè io queste cose le reputo tutte importanti. Ti piace di più vedere il golf o seguire il basket? Guarda, io mi sono dedicato negli ultimi due anni, ai me sotto certi punti di vista, alle finali di NBA. Anche quest'anno sono state incredibili, le ho viste a Los Angeles, sono state veramente uno spettacolo entusiasmante. Ora, rispondendo, stando qua, sto perdendo il British Open, che è in diretta, non dico su che canale per non fare preferenze, ho visto anche che anche lì c'è un po' di tensione. Sono due sport che mi piacciono molto, che mi piace molto vederli, li ammiro e mi presto a loro come un fan.